Il mio banchone Bostazzi, piccoli spostamenti su inunda. E' qui che accasca l'asino. Vai, vai, vai che stasera sei su Youtube. Se ci arriva stasera. Salta. Un po' più basso. Stai un po' altino. Adesso sta più basso. Che diceva nulla? Com'era? Piccoli passi? Nulla. Un po' più basso. Infatti questa laniglia qui l'avrebbe presa in questo modo più urbano. Un po' più grande. Questa è un po' più grande. Un po' più grande. Grazie.